In questo video descriviamo i tre giorni in Roma che avevamo insieme i nostri clienti e voglio ringraziare a te personalmente perché era davvero un'altra giornata. Qui seguiamo alcuni intervii dei nostri clienti e delle persone che vengono nella nostra città e a parte di un'inbagliata di machine. Vi vediamo a Barcellona, in Spagna Base, il prossimo mese. Ciao, qui in Canappamundi, l'exhibizione è il primo giorno con Arriv vending machine e... ...CVD flowers! Come visitare il nostro stand, siamo in numero V10. E potete vedere molti prodotti, oggi abbiamo macchinari, vending machines, flowers, extracts... Quindi abbiamo molti cose per vedere, dovete visitare il nostro stand. Ci vediamo per te, siamo qui per tre giorni. E vi vediamo a noi, B10. Ciao! Ciao, ragazzi! Ciao, tutti! Secondo giorno in Canappamundi, in Roma. E abbiamo metto Peter, da Canappaco. Peter, por favor, explica ai nostri follower, in Instagram e Facebook, cosa fa il tuo compagno in Italia? Siamo produttori di alta qualità di cannabino di hemp flower. E noi stiamo cercando di essere un prodotto di high-end boutique in Italia. E ora, con il help of Harving, abbiamo portato i nostri prodotti, via le vending machines. E siamo molto felici con i servizi e l'obiettivo che hanno prodotto. Qua è la differenza principale tra i Stati Uniti e l'Italia? Per quanto riguarda i prodotti e l'obiettivo? Per quanto riguarda i prodotti? Speramente, la grande differenza che ho avuto con il mercato italiano e il mercato italiano è che il mercato italiano è un po' più avanzato. Il consumatore è un po' più educato e, per favore, sono disposti a experimentare con diversi prodotti. Per esempio, concentrati, vape, oli e ciò che sono molto più popolari negli Stati Uniti che sono qui in Europa, specialmente in Italia. Ma quando riguarda i prodotti, credo che l'Italia è sicuramente uno dei migliori prodotti dei prodotti europei. Grazie molto, Peter, per la tua explanazione. E ricordate che Canapoco è in Parma. Per quanto riguarda i prodotti, potete contattarli e avere la migliori offerti e la migliori qualità del prodotto. Grazie molto per la tua vista. Grazie. Grazie, Harvind. Grazie per tutto. Buongiorno. Buongiorno. Siamo nel ultimo giorno di Canapomundi in Roma. Abbiamo incontato un amico, un grande amico, Massimo. Massimo, per favore, ti presenti a tutti i nostri follower. Ciao, mi sono Massimo. Potete anche chiamarmi Bernie Max, che è il mio nome artiste. Sono molto familiare con il mondo di Cannabis. e ho lavorato con l'artistallazione con l'artistallazione di Cannabis. E ho anche un DJ. Qui in Canapomundi ho un DJ di Friday night. E ho un grande amico di Harvind. Antonio e il tutto il team, sono incredibili. Sono portate innovazione al mercato di Cannabis. Questi ragazzi che abbiamo in fronte. Questi sono la reale soluzione per chi ha il canapomundi. Quindi, Harvind. Grazie mille Massimo. Ciao. 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 Ciao.